Io penso di essere stato chiamato a fare questo incontro con voi per il fatto che appunto, come ricordava Valeria Saura, ormai da 20 anni mi occupo del web e di tutto ciò che riguarda l'informatica nell'Accademia della Rusca. Quindi quando mi è stato proposto questo incontro ho cominciato a pensare a come avrei potuto essere utile e ho pensato che forse potevo essere utile proprio approfittando della mia esperienza sul web, ma non soltanto della mia esperienza sul web, anche della mia esperienza come insegnante. Come insegnante dell'università, d'accordo, però io poi mi trovo a sostanzialmente a lavorare con quello che è il risultato finale dell'istruzione che si compie tra elementari, medie e superiori. E quindi mi trovo anche a confrontarmi con quelle che possono essere alcune lacune che sicuramente vanno colmate invece prima di arrivare all'università. In questi giorni si è fatto un gran parlare, come sapete, in questi mesi, in quest'ultimo periodo di questo argomento. C'è stato l'appello dei 600, ci sono stati i controappelli, c'è stato il processo a De Mauro. Io, insomma, invece, tra già che tocco l'argomento, lo devo ringraziare De Mauro, come penso gran parte delle persone che fanno questo lavoro. Quindi il problema è all'ordine del giorno. Si è focalizzato sul fatto che forse gli studenti universitari non hanno una preparazione adatta perché ci si è troppo dispersi, perché ci si è dispersi in conoscenze che forse non erano necessarie, non erano stringenti, che forse dovevano avvenire in un secondo momento. Io credo che non sia così. Vi faccio un parallelo storico. Si è parlato a lungo del processo di italianizzazione che ha portato all'uso dell'italiano in Italia. Sapete tutti, non è stato un processo facile. È stato un processo che è iniziato da un punto di vista sociale, perché nei secoli precedenti si è parlato tantissimo di lingua, ma era un problema degli scrittori, era un problema di quelli che poi dovevano scrivere. È diventato un problema sociale, cioè la lingua per tutti, per tutti gli usi, con l'unità d'Italia, lo sapete benissimo. E se ho fatto un lungo parlare sul fatto che alla scuola era stato dato un compito molto importante di diffusione dell'italiano e che la scuola invece questo compito lo ha fallito. Lo ha fallito perché, insomma, se si va a vedere, basta arrivare a 1967, lettera a una professoressa di Don Milani. Quindi ancora dopo un secolo, evidentemente, la scuola aveva fallito su questo piano e non è un mistero perché ha fallito. Era una scuola improntata soltanto all'insegnamento di una lingua di registro alto. Non si è mai preoccupata che i bambini che entravano all'elementare di fatto erano dialettofoni. Non si è mai preoccupata che coloro che dovevano uscire dalla scuola dell'obbligo dovevano essere messi di fronte a una serie di registri di uso linguistico che erano molto diversi per la maggior parte di loro da quello letterario. Insomma, tutti i problemi di cui ora non parlo perché non è il tema della lezione, tutti i problemi che sono stati risolti con, per la prima volta, l'elementario con i programmi elementari del 1985 e per le medie con i programmi del 1977. Grazie a tutto quel movimento di spinta che in De Mauro poi ha origine e nei successivi sviluppi legati a educazione linguistica democratica che poi è rimasto solo l'educazione linguistica, come veniva ricordato proprio qui a questo tavolo lunedì scorso. Cosa voglio dire? Perché faccio questo paragone? Perché è facile dire che molti si sono trincerati dietro il fatto che per forza la scuola non ha funzionato perché c'è stata grandissima diserzione scolastica fino al secondo dopoguerra. Normativamente le scuole elementari erano gratuite fin dal 1859, erano obbligatorie per i primi due anni con la legge Coppino del 1877, ma come capite bene questo significa che i carabinieri in teoria andavano in casa a prendere i bambini che non andavano a scuola, insomma nel 1877 i carabinieri avevano problemi ben più gravi da affrontare e quindi di fatto non ha mai funzionato. Ma se noi andiamo a vedere invece per scrupolo quali erano i risultati della scuola per quanto riguarda quelli che ci andavano a scuola, quindi per esempio se si vanno a vedere alcune pagine dell'idioma gentile di Diamicis del 1905 in cui spiega qual era la formazione di un giovinetto ben istruito, viene fuori che il giovinetto ben istruito sapeva sì parlare di filosofia, d'amore e di tante altre cose, ma come usciva dalla propria città di nascita non era in grado di nominare gli oggetti quotidiani e quindi vuol dire che dal punto di vista della diffusione della lingua la scuola aveva fallito. Qual è il parallelo di oggi? Si fa un gran parlare del fatto che appunto forse ci siamo dispersi troppo. Però il problema è che gli studenti all'università non solo non hanno conoscenze diciamo grammaticali di base, ma non hanno neanche conoscenze adeguate per quanto riguarda quello che dovremmo avergli trasmesso in questa dispersione. Perché in questa dispersione ad esempio uno degli obiettivi di uscita dalla scuola dell'obbligo e quindi si presume a maggior ragione all'uscita della scuola superiore è che ci si sappia muovere in tutti i contesti comunicativi o come vogliamo dire linguisticamente all'interno dello spazio linguistico, cioè quindi sapersi muovere nelle varie zone che si percorrono nel nostro. Quindi se scrivo una lettera all'assicuratore mi devo muovere in una certa maniera, devo usare un certo registro. Se scrivo al professore mi devo muovere su un altro registro. Allora uno dei problemi principali e in questo in parte lo dico questo perché c'entra col discorso che stiamo facendo, norma uso nei tempi della rete, uno dei problemi maggiori che hanno gli studenti universitari è la mancanza di padronanza dei registri. Va bene? Quasi è sconfortante perché è quasi come gli studenti Erasmus che vengono in Italia a studiare e quindi hanno una conoscenza della lingua che è di sei mesi, di un anno, no? Io mi trovo a fare l'esame come professore universitario a uno studente Erasmus che viene e quello ti dice ciao, come stai? Perché? Perché non ha padronanza del registro. E beh comunque la padronanza del registro manca anche ai nostri studenti perché come sapete tutti, questo insomma ci possono fare fiori di antologie e poi magari ne riparlerete a tempo dovuto, cioè uno apre la mail e come apre la mail si va da salve a buongiorno prof, allora prof che fa, insomma tutte cose di questo genere, no? Che è un problema che non è per questo, cioè non è una questione, è una questione di non padronanza dei registri linguistici. E se noi come docenti possiamo essere benevoli, docenti di tutti gli ordini i miei gradi. Noi possiamo essere benevoli nei confronti di queste cose e quindi essere alla mano, accettare, però il problema è che se queste persone un domani si rapportano alla persona sbagliata usando questo registro ne può dipendere della loro vita perché sostanzialmente io se fossi un datore di lavoro, di un certo tipo di lavoro e uno si rapporta con me in questi termini probabilmente sceglierai un'altra persona, soltanto per questo. Quindi si rischia alla fine che quello fino a poco tempo fa era un po' il dialetto che in qualche modo marcava socialmente le persone, no? Ora si rischia che a marcare socialmente le persone si rischia un'inadeguatezza anche proprio in quello che doveva essere invece il portato dell'educazione linguistica di De Mauro. Quindi alla fine c'è veramente qualcosa che non funziona, perché allora se è perché abbiamo dato troppo spazio a queste fole demauriane che le cose non hanno funzionato a scuola, almeno su questo però forse dovevamo essere un passo avanti, invece non lo siamo.